Hanno vinto la responsabilità e l'efficienza. Vi sarà l'applicazione sperimentale già da quest'anno e definitiva dal prossimo, ma si partirà comunque subito. Così il presidente del Piemonte, Roberto Cotta, commenta l'introduzione dei costi standard in sanità al termine della seduta della conferenza delle regioni convocata per discutere del nuovo patto per la salute. I giorni scorsi avevamo posto la posizione dicendo che per noi era una questione di principio quello di far partire, di applicare subito i costi standard. E' un'attività presente dagli ultimi mesi del 2013. Immediatamente, da oggi. Come Regioni del Nord ha continuato Cotta, insieme a Maroni e a Zaia, avevamo posto questa questione dal punto di vista politico. Non si tratta di aver vinto, ma di aver fatto valere il principio della responsabilità e dell'efficienza. Diciamo che ha vinto la responsabilità e ha vinto la efficienza.